Andrea Palmeggiani dell'Accademia Sport siamo ai nastri di partenza, manca ormai pochissimo fra due settimane ci sarà la presentazione in Pompamagna possiamo dire in Piazza del Popolo e anche voi insomma siete molto carichi Sì, noi siamo carichi e soprattutto quest'anno ci siamo presi in convenza di organizzare in pieno questa manifestazione presso i nostri campi di finestra quindi l'anno scorso era diviso su più location quest'anno è tutto da noi quindi speriamo bene le società sono tante, le squadre sono tante speriamo di far bene e soprattutto che i bambini si divertono Saranno otto mesi molto molto intensi E non solo, c'è anche la scuola calcio c'è il settore giovanile per quanto ci riguarda quindi sì, ce la facciamo comunque siamo pronti e siamo carichi